ha avviato video non è che sarei già stasera no? va tranquillo bravo perchè vuol'è su un'errore vuol'è su un'errore qui e puh stai qui buon travaglio ciao grazie spese per la pubblicità l'altro anno poi non siamo riusciti a farla io di lì non so l'altra volta il comodo mi ha mandato sarà per le 8 quando troviamo l'asfalto oh guardi mettele è durata a 3 quarti d'ora più o meno su diamo su tranquilli quando ho filmato c'era la statua della madonna io ne ho vista oh guarda hoca miseria qua è qua era qua quello che viene a scuola con noi ce ne erano due che sono arrivati almeno non so mi piace passare dove ci sono tutti quegli abeti che passi tutto non sembra neanche di essere ma mario col suo passo allunga stupendo stupendo non so quanto ci sarà un chilone per parlare dopo andiamo su di qua e di qua comincio il spettacolo e se c'è le mucche non andiamo neanche e se c'è le mucche non andiamo neanche ci taglia le erbe i panni stesi e che vite come quello che dice il black mario ma quanto è bello sto giro di oggi mario adesso facciamo prima cosa che è alpegrè poi sarà 500 metri al petto 300-400 metri al pone poi di lì decidiamo vediamo quando siamo sotto che ora è anche a essere così fino alla alla all'alpone che bello anche sto spettacolare è limpido limpido qua devi proprio deciderlo quindi siamo ancora al 40% di batteria cioè hai consumato 40 hai consumato 60 hai consumato 60 vabbè ma adesso tu hai disceso alpegrè al petto giriamo la montagna come si è ben girato al pone e da lì decidiamo dove scendere però spettacolare alpegrè alpegrè quello dopo al petto di là al pone eccolo qua pastore eccolo qua pastore eccolo qua pastore sono due sono due eccole qua i cani porca malora eh se attenzione adesso chiediamo come si fa passare dobbiamo passare a piedi due tre quattro ce l'hai là eh fantastico quattro ce l'hai là oh mi fumo adesso qui quello la sarà legato bello 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 andiamo a piedi e qui siamo obbligati a passare di due aspetta che vado a chiediti qua ok possiamo andare tranquilli 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 non mordono se l'ha detto lui che possiamo andare tranquilli vai tranquillo non mordono vai tranquillo non mordono non mordono le ultime parole famose eh e facciamo come ci ha detto il Plinio io scendo dalla bicicletta non è solo questo notiziano poi ci sto spiegando albra nep supporters l'altra volta mi sono passato come ho sentito bagliare aiuto acceleraturs ombra ma tranquillo tranquillo era il mio vicino di casa vabbè data io c'ho proprio una fifa della madonna anche perchè non sai che c***o pensano questi qui più alto è il rifugio dove siamo andati prima mille e quattro e qualcosa e adesso dobbiamo girare intorno al recinto chiediamo alla pastora possiamo passare signora adesso se lei è gentile dei miei amici quando sono arrivati per qui ma non so dove hanno preso una deviazione sono andati giù di là e sono usciti sulla strada che va al rifugio pianetti lei mi sa dire dove dobbiamo andare io non so non so come fanno con la piccicchiazza perchè è brutto brutto sono passati in mezzo una pineta ah una faggetta allora che pineto è il pineto? hanno preso una strada che sono andati nella strada nella strada che va al pianetti al pianetti brava perfetto proviamo adesso possiamo entrare qua o no? il can lì potremmo stare tranquilla qui allora qui allora a parte che mi mangia a me di osse ma comunque allora no andiamo niente qui potremmo stare tranquilla o a pè no 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 per quanto è che la fassa la vai qui alle cinquanta e porca miseria e da te che la sta? per qui tutti abito a netto però sono di bagnieri ah di bagnieri senti che mi ha da passare per me non disturbi qui a sgavo grazie a gamba buona giornata a sgavo o io mi ha da capire sei niente se Mario non da 2022 c'è anche una vita pare no eh senza una vita pare questo qui dovrebbe essere l'alpone facciamo la trappa per andare giù sei già stato la trappa bella se ne vedi se ne vedi dimmi ah alpe amburnero di sopra bric paglie colma di mont barone credo credo che sia un bornero di sopra a venticinque minuti c'è c'è? e di qua andrà dritti no? proviamo andrà dritti da? in due ci faccia il coraggio mi da su io arrivo a fia lì no ci mettiamo nella vado a vedere fino lì a meno che diventi strada ma no qui è impossibile Mario provo ad andare sopra la casa a vedere ma ne vedo duro l'altavero non è fia qui è un sentiero Mario è un sentiero no grazie cioccolata fusa sta diventando Nutella sempre fantastico qua andiamo giù per la strada ora a meno che il pastore che ho visto prima sia il marito di questa qui bello bello bravo facciamo i galpetti l'altro rifugio o è troppo tardi? no no c'è batteria è l'ora dopo è tutta discesa ecco adesso sfogati mi aspetti al rifugio ten salire vai come la scheggia Mario se ne va mi fa mangiare la polvere vediamo di qua non sono mai andato dai mai lasciare la strada vecchia mai lasciare la strada vecchia mai lasciare la strada vecchia di là era tutta bella pedalabile da non fare ho fatto una cazzata aspetta che vado fino lì a vedere com'è se è tutto così torniamo indietro sembrava bella all'inizio ormai è bella dai se arrivi fino qua è bella ma se arrivi fino qua mi sembra bella e allora aspetta che vado ancora su un colpo ti urlo no spiana spiana vieni che va bene vieni vieni che è finita da fare andare in giù ma non venire in su è peggio che quel pezzo là il pratetto quanto ce n'è ancora? quanto ce n'è ancora? ma adesso è tutta così eh saranno 3-4 chilometri quanto stai? dopo è tutta discesa dopo è tutta discesa 3 o 4 chilometri ancora se te la fai se no scendiamo potrebbe essere quella lì perché sono scesi appena prima di questa qui arrivati secondo rifugio di giornata adesso andiamo su qua 200-300 metri perché se no salirebbe almeno ancora un paio di chilometri ci alzerebbe in alto là e poi quel pastore mi ha detto che c'è un bel giro da fare ma visto che sei scarso di batteria andiamo su un pelo lì poi facciamo quella lì che non ho mai fatto la sverginiamo insieme e se è proprio brutta scendiamo no 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 qui 200 metri poi da lì alla macchina è tutta discesa c'è un po' di falso piano nel tracciolino asfaltato per andare a beccare la la discesa della trappa poi quando scendiamo lì è tutta discesa si può arrivare in macchina senza pedalare dammi il plinio acqua è la mia funga acqua è la mi dia bene la roba è la bene questo è Bucchi poi magari se lo fai a ottobre novembre è pulito ma farli adesso no ma comunque non è da fare lo stesso questo qua lo consigliamo a qualche amico che gli ha meno male meno male questo qua lo consigliamo a qualche amico che gli vogliamo male no non bisogna scendere di qui torniamo indietro torniamo indietro dove siamo saliti quella lì da fare è bella siamo ritornati a qualcosa di pedalabile dove andiamo a finire non importa tanto al tracciolino ci andiamo sono delle volte che è meglio l'asfalto che avevamo prima salvina allora quello è bagneri sei già stato là c'è un qualcosa che vengono da estate anche i ragazzi qualcosa del cai allora se andiamo alla trappa è tutta discesa fino alla macchina se andiamo bagneri dobbiamo andare giù per il corso di Muzzano e poi dopo c'è la salita per risalire andiamo alla trappa no trappa è tutto in piano così adesso non ce n'è più cosa vuol dire trappa e poi torniamo indietro andiamo a graglia si ma noi dobbiamo andare sul tempo dove finire dobbiamo arrivare fino la lo vedi la fino la poi tutto è discesa ah si con questa in pietra no si con questa in pietra no si no dopo tutto si c'era fino sul tempo invece se andavamo a graglia doveva pedalare si eh la graglia la graglia per c'è in giù eh arrivi sotto poi sali vabbè pedali 500 metri neanche trive fiala uno ma pedale ancora o no pedali tu lei non ti aiuta più saranno due chilometri neanche quanti chilometri avremmo fatto secondo te eh quanti a me da 35 quasi 36 ti aiuto ancora eh ti aiuto ancora un po' è duro è dura è duro è dura è duro è dura si accede finché è accesa è ancora ah 500 metri dai po' è tutta discesa non discesa ma questo dai tacati ti tiro un po' c'è un raccordo che ho lasciato in macchina senti che qua comincia già la discesa senti che sensazione piccola discesa pianeggiante e siamo quasi arrivati ti stuferei di far discesa a prendere la montagna siamo aperte siamo arrivati si per i 50 metri devi scendere così a piedi dopo spiana e diventa no dopo diventa bella c'è solo e non si può è chiuso il cancello è chiuso il cancello sono andato a vedere io l'altra volta se vuoi andare a vedere tu visto che hai tanta batteria eh? eh? si per scendere si se vuoi andare a vedere che non ti fidi di me vai pure sono sesso un filo sono sesso un filo altra volta hai ragione dopo quell'esperienza lì fai anche bene però questa qui te la garantisco è una mulettiera eh non è facile da scendere ma non è come quella che abbiamo fatto lì è fattibile c'è un punto 2 dove magari c'è delle rocce un po' esposte che mettiamo giù i piedi ma il resto è pedalabile cioè Claudietta no la Claudietta la Varegna Caciola qui eh Dio santo e qui pure il cane c'era poi c'era una bella ragazza che ha chiamato il cane e almeno il cane mi ha lasciato tranquillo ecco da qua adesso tutta discesa adesso se vuoi andarla a vedere fino sotto vuoi vederla fino sotto se no tagliamo dritto di qua eh l'ombroglio di ondarie eh dove eravamo prima? da sopra? eravamo da sopra prima? che senso da sopra? eh Eh, l'unico coso brutto è quello lì, che non avevo mai fatto e non l'ha più fatto, perché... Eh? Prima o poi? La trappa! Dai, collarli! Brucia questa benzina, va a vedere quanto... E' a posto! Vabbè sì, quello non avevo dubbi! Ah, c'era il sentiero lì! Andiamo sul sentiero qua! Bella madonna! Eccoci qua! Ah, ci troviamo sempre, porca mia, va come piccolo il mondo! Guarda dove si mangia, trovi noi! Ah, si mangia qua! Ah, buono! Mi amico Mario! Buona serata! Grazie, grazie! Possiamo andarci da tu, ci dà la del turno! Ormai! Ciao, buona passeggiata! Ciao! Guarda che bello! Mario, ma quanto è bello sto giro oggi! Adesso non mi ricordo più qui! Mi sembra di qua, sì! No stress! No stress! Diamoci di... No stress! No sbagliato! Sotto! 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 Sbagliato! Sotto! Eh? Sotto! 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 Quali facevi te? C'è testimony! Ah no, ma allora abbiamowoodedscierto! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Guarda come sono tenute. Devono essere di qualcuno importante, però non me l'avevano detto. Guarda come sono tenute. Ma qui il tito di cedo ormai. E' una strappina in alto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Era tutto di cedo. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.